Massimo Mutarelli, eri un ragazzino quando sei arrivato al centro Bortolotti di Zingonia, adesso ci ritorni in altre vesti, sono passati un po' di anni però insomma c'è sempre questo questo nerazzurro nel tuo cuore? C'è sempre obbligatoriamente perché ho fatto tutto il percorso giovanile poi dopo ho chiuso la mia carriera qua perché gli ultimi tre mesi li ho fatti qua all'Atalanta e ci sono tornato già altre volte per vedere un po' gli allenamenti adesso ci torno in via ufficiale per fare il corso, è sempre molto emozionante. Ecco Massimo, per te che sei nato e cresciuto calcisticamente parlando del settore giovanile dell'Atalanta quanta soddisfazione c'è nel vedere che l'Atalanta continua a sfornare i giovani? È un lavoro che viene portato avanti da tantissimi anni, adesso credo che quest'anno sia proprio l'esplosione di questa situazione perché vedere così tanti giovani tutti insieme in campo succede raramente e qua va fatto un complimento proprio all'Atalanta, alla famiglia Atalanta che porta avanti un discorso non solo a parole ma anche con i fatti. Due giorni per seguire l'Atalanta, seguire Giampiero Gasperini. Due giorni interessanti, due giorni piacevoli dove ci si confronta, ci cerca di capire da che è molto più esperto, chi fa questo mestiere da tanto tempo e si va via sicuramente con qualcosa in più personale. Massimo Mutarelli da grande vuole fare l'allenatore quindi? Ma ci provo, ho iniziato da poco, ho fatto due anni a Empoli, adesso quest'anno sto studiando per portare avanti questo mio percorso che ho appena iniziato. Grazie. 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 Grazie.